e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono jurycrafter ed oggi giochiamo al farming simulator 2019 non so cosa dire perché è molto bello intanto scegliamo il salvaggio 1 io ho visto che faccio schifo non so praticamente niente che almeno so come si fanno alcune cose quindi nuovo agricoltore perché c'è questo come faccio cioè senza soldi senza niente dovresti soltanto fare le missioni per iniziare qualcosa ma comunque chi cao cioè a me le missioni mi piacciono pure però non è che mi tiene di farle subito quindi nuovo agricoltore perché comunque sono non sono un bravo mettiamo questo la mappa europea credo che sia quella felsbrunn deve essere tedesca ovviamente tonin chi è tonin chi è tonin nessuno è tonin ok scrivi bene sì questi ma si può girare personale no dove è quella della new holland mi pare che ci stava è ancora un po' la giocco è 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 un po' di No Ah niente che sto usando io Ovvero la cannottiera è bianca Quindi direi sì È bianca Troppo difficile credo Che brutto Mamma mia Ragazzi non vi la metto Ragazzi a voi il gioco si vede meglio Dai però non è giusto Che a voi il gioco vi si vede meglio Comunque questo qua ragazzi Con le scale un po' ripide Questo qua io mi ricordo che qua Ci avevo messo tipo un tratturino Poi si può Ovviamente si può andare in casa Anche se Non è Tornire R Anche se non è troppo grande C'è scritto Willkommen Che è perché in Germania Quindi direi di iniziare A lavorare Guardate che bella la mia titubia Della New Holland Tx32 Anche se ragazzi vede agricoltura Non me ne intendo Però Aspettate che devo settare un po' di cose Perché Allora questo perché Ok Su carburante Di dove No 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 E no Più automatico del motore Sì Velocità Non so che significa Traffico Sì Significa Boh Questo Il mio salvataggio No You No Tube Vediamo Facebook Sempre Facebook Frenata completa Sì Intervallo Ok Passare i treni Sì Finestra Aiuto Ok Daltonismo Io non sono Non Ok Guardate che bella C Non posso Sali Sul Ok Sta registrando Premi Allora Passare i R Attiva Oggetto F Vediamo se non ci sta Qualc'altra F Mi pare di no Poi Ah No Ci resta Anche un'altra F Che adesso Non ritrovo Ehm Dove era F F Ah Per attivare L'oggetto V Oh E che E diamo Ma dai Senti Z Funziona Atretto X No Beh Se tipo Metto M Vabbè Sti cavoli C'è Invece Poi Collega Atretto T Chat Chatt Multiplayer Sì Ok Quindi Ti Che bella Allora No No Allora V Ok Stiamo Stiamo Che direi Che direi Accendi Metitrebbia Ok Dispieghiamo La mititrebbia X E Adesso Adesso Mh Ragazzi Riesce Il trattore Con il Cottivatore Che bello Ok Tanto qui la metti trebbia va E visto che Vabbè raga Anche se no non so fare le manovre Però vabbè Ma se muove se Aspetta allora Ok Alziamo la lama Ok Ah è vero Io ragazzi ho giocato Soltanto al 2016 Sul telefono Ragazzi scusate se sto facendo manovre Incomprensibili ma io faccio schifo Infatti ragazzi Sul 2016 sul telefono Perché là è gratis Non so sempre Stai dritto Non lo so Abbassiamo la lama Ok Non so sempre l'operaio Capito quindi Così 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 Ma che ho lasciato qualcosa a no Perché io raga sono un perfettino Quindi non si deve lasciare nulla Promo a vado l'operaio Ma no dai Comunque è bello avere un gioco senza il volume Alziamo la metitrebbia La lama della metitrebbia Così Vediamo se così vabbè Ehm vabbè Un altro ragazzi Faccio così Dunque questa qua ragazzi è Bellissima proprio che ci sono anche quelle più belle Ehm vabbè Ehm vabbè Ti metti bene Ok Metti trebbia va Ehm vabbè Metitrebbia il grano Il frumento Quello Che è Date il mio personaggio fiero di guidare una metitrebbia potente Anche se fatisce allora Ok Ok vediamo Mamma mia ragazzi Non distruggo il raccolto Magari Poi ragazzi Sta quello che tiene veramente la metitrebbia E che Credo che sia difficilissimo da guidare Anche perché Come si fa a vedere Ok C Un po' di parti Ma un pochetto Abbassa la lama Si La lama È stata di Anche non serve che tiene premuto Che tengo premuto Perfetto Io non so cosa è La cosa che esce qua dietro Ecco Così Ma la musica Oh io voglio La musica Mamma mia Vabbè dai Carica No Che cavolo Vabbè ragazzi Perché Io A me ragazzi Quando succede il nero Perché a voi non vi siete Però a me poi diventa tutto nero Non so per quale motivo Però quando succede Guardo stream maps Perché Da là Non me lo fa il nero Non ve lo fa il nero Quindi Vedo La distanza giusta Ho detto così Ok vediamo se è giusto Vai Ta 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 Poi se giro Ok devo giro Ma che cavolo Ma sono tutto storto Non metto L'operaio Ma che cavolo faccio ad essere così storto Come faccio Credo che un po' Ma la tocca Faccio lo stesso così Ok 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 Basta che faccio così E dovrei tagliare tutto Se va dritto ovviamente Buon caso raga va storta Se va storta mi arrabbio eh Siamo 14 Già 14 No Guardate che bello Poi questo gioco Non è proprio il mio preferito Però È molto bello A me mi piace Ok Ok qua Voglio mettere L'operaio V La V Qua metto L'operaio Faccio manovre Strane Beh ragazzi Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se ci devo fare una serie Perché Io ragazzi La serie Con cui ce la voglio fare Da quelli gradi Dovebbe essere la paglia H Vediamo che manovre fa L'operaio E con la serie si cambia Guardate lui va dritto Negozio K-pad Che cos'è la K-pad Che cos'è la K-pad Salva print Salva screen Così almeno ragazzi Posso fare la copertina O O No N Che cos'è la K-padina Che cos'è la K-padina Che cos'è la K-padina Ok Vediamo Ah io voglio Comerire Un'auto 120 Tutte due 120 Quanto costa? 45.000 No Però comunque Belle le auto Io le voglio Eeeh Boh All'altro Non so che se Non lo so Perché Come vi ho detto Di agricoltura Io non so niente Quindi bene Arie già I coltivatori Eccoli qua Quali i miei preferiti Uuuuh E questa qua ragazzi L'ho avuto Tutto 24 metri Cioè quindi Anche qua c'è scritto Poi vende ragazzi C'è questo qua Che è il più corto Di 3 metri A me anche questo Non so cosa cambia Boh Poi questo C'è il coltivatore Che semina Quindi Bella roba Poi mi pare Che ci sta Anche proprio La seminatrice Che semina Che Miracom Erpici a dischi Che so Che so Eccolo I grano Erpici potenti Ah Questa qua Con la seminatrice Puoi disciutare Inoltre Che Stum Ti dà la possibilità Di seminare Direttante Senza Di coltivazione Senza La nelle Di arare Infatti Anche questo Mmm Orca vacante È grande Questa Eh Ah Non è Non semina Guardate Questa No È uguale A quello Soltanto Che semina No Che figlio 25 metri Quindi Parla anche di più I ranghi Natori Non so che sono Ovviamente Ragazzi Poi ci stanno Le facciatrici Le Quelle belle Questa qua Io ragazzi Su Farming Un Tor 2016 C'ho queste due Quindi Questa è Tecnologia Per balle Insilato Eh Uh Questo è Bello Oh Questo qua Io C'ho Allora Le balle Quadrate Queste Come Fa Non lo sapremo Vediamo Ok Questo qua È quello Che Ma io Avevo visto Anche la mod Che mette Quello Vabbè Basta Perché Non voglio Spogliare Stiamo a 20 minuti Ma come Facciamo Ad uscire Come facciamo Cedo R Sì No Non mettiamo Ragazzi Non quasi Non Ok Ok Siamo Pronti Allora Allora X Cosa fa Come Uh Che figo G Raga Peso Farming Su quello 2016 Non devi Non c'è Attaccarlo Non è Non è Difficile La basta Che t'avvicini Da dietro E lo attacca E lo hai Attaccato Intanto Qua va Oh no L'ho Visto Una cosa Ok Quindi Oh che figo Che figo Questo che Questo che È un Trattore È più Molto più Piccolo Di una Menti Trebbia Credo Che è più Facile Allora Così Almeno Faccio Indie Ok Ok Andiamo 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 Poi ragazzi Mi voglio comprare le galline Perché quelle là Sono indispensabili Oh no La metti Trebbia No Ok Perché ragazzi La metti Trebbia Credo che sia L'attrezzo Più grande Che puoi usare Cioè Non proprio Attrezzo Il veicolo Ecco Proprio Proprio Ingenie Leggente Proprio Avete capito No Non Non lo posso mentare Soltanto 53 Vabbè Ci sta Quello là Del fiat Che Poi vi faccio Vedere Che è lentissimo Infatti A me Quello là Non mi piace È brutto Anche se È della fiat Però a me Non mi piace Lo stesso Perché Va lento Eh se è brutto Non è brutto Però Oh no Qua metto L'operaio Ai operaio Ecco Lo faccio Da solo Come cavolo Si fa cambiare Veicolo Ragazzi Io qua Mi devo rivedere Un po' I Cosa ho capito Tab No Ok E' questo qua Ragazzi Con lo knob Fa 25 All'ora Oh come N Ok Screenshot No K K Dai N Ok Visto che Non distruggo Il raccolto Posso passare Orca vacca Quando è grosso No No Su qua ragazzi Voglio far durare Di 40 minuti Perché mi va Perché mi va E' bello Quindi voglio fare Tantissime cose Poi farò Video normali Di 20 minuti Fiat Allora 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 Non è che Mi piace Troppo Però Il gioco È quello che E si chiude La copertura Ah No Maledetto Fermate Fermo Scarica Tutto Quanto Ora Adesso Che belle Le ombre Molto pagate Ok Addio Andiamo a Mettere Nel silos Così almeno Quando dovremo Avere Così Almeno Abbiamo Anche Da mangiare Per le galline Perché serve Il frumento E E il coso E l'orzo Mi pare Ho bisogno Della I Che ho In mano Qui Ok Sempre Di più Giriamo Ok Vediamo un po' Quello là Che fa Lavori brutti Avvolatore Vediamo un po' I contratti Dai Questo Diecimila Al Campo Dodici Non è Il campo Dodici Bello Grande Lo accetto Ok Ok Non mi ha fatto Spendere nulla Ok Quindi adesso Se io cambio Ok Adesso 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 Ci devo Comprare I semi Vediamo Quali Servono Il negozio Qual era Oddio P P Questo No No Questo Lo espandi Con C No Questo Credo Che sia Questo Che è Bello Lungo K K 165 E' Questo Qua Vediamo Quali Servono Questo Qua Questi Ok Due Perfetto Ok Vediamo No Aspettate Devo spegnere E riaccendere Il monitor Aspettate Così Questo Qua E questo No Non ci sta Aspettate Aspettate Che qua Non è Guardate Io Premo Ma Non c'è Niente Aspettate Ma che Voi Vedete E' Un po' Improbabile Giocare Così Eh Ve lo Dico Eh È un po' Improbabile Aspettate Aspettate Un attimo Allora Chiudo Farming Simulator E lo Riopro Tanto Facile No Tanto Vedete Scusate Un attimo Mi do Un attimo Un attimo Un attimo Ok Un attimo Rieccomi Ok grazie non me ne fiega niente Ok siamo ritornati qua Continua Ok perfetto Si vede tutto nero a me Questa cosa credo che non va bene Ok va bene va bene 5.000 No eh Vabbè Non ho aperto proprio tutto Qua sono direttamente l'operaio No il contratto Eh vabbè intanto Prestano gli oggetti adesso Ok Fendit Guarda che è già quello È già quello più piccolo Che quindi Qual è Il negozio P Tanto posso Comparare No 1 2 3 4 5 Vediamo se 5 Sono 5 Ok 5 5 M No Non so perché prima ho detto Non mi ricordo M Tanto ragazzi Qua ragazzi qua problemi tecnici Qua ragazzi è più difficile del 2016 Si lo so ragazzi sto dicendo troppo Sto parlando troppo del 2016 Wow E' t E' t E' t Non per Non per che Vabbè M Sta ricaricando Yes Credo che 5.000 Bastano Quale campo era la missione Campo 23 No Vabbè Non è gigantesco Ma non è neanche piccolino E Sta pure qua vicino Credo che ho fatto riva Mi pare Credo che la freccia Capiccia così Oh No Che qua devo Perché c'è scritto sul mio peraglio Perché Sto qua il campo 30 Anche qui Anche questo Molto bello Ok Aspetta Perché Perché raga Dico Vabbè Vabbè Ok Aspetta Aspetta O peraglio Sto Wow Oh 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 devi andare più indietro e anche più a destra così e così H oh vai ok credo che non basta credo che non basta non lo so bello si consuma anche molto velocemente aiutanti quanti aiutanti ho messo allora adesso cosa vabbè tanto sto qua avanti risalendo la collina anche se non credo che questo fendet c'è la faccia tanto vado a vedere la mia T3BA ha veramente il serbatoio pieno e non me lo sarei mai detto salva lo screenshot non mi ricordo quale tasto ho messo e tante H ha bisogno di aiuto stavo andando con il soccorso con il trattore brutto poi ragazzi c'è la mia T3BA non lo so comunque avevo in mente anche di far di mettere tipo a fa due cose consecutive tipo oddio non so come spiegarvelo però comunque è tipo che davanti quello che coltiva col coltivatore e dietro quello con la seminatrice però poi mi comprerò anche quello che poi mi comprerò ovviamente anche la seminatrice che semina e coltiva nello stesso tempo quindi è più facile fammi vedere quanto costa varie questo mi serve ah questo è bello marchi vediamo oh voglio vedere la New Holland giri un po' troppo velocemente a quanto pare fia eh a fendet voglio vedere la New Holland a fiat la fiat la fiat la cun uh c'è la John Deere e beh la John Deere fa cose molto bella strametti 3 anche questa è bella anche no che figo la John Deere è verde la New Holland eh lo sapevo che faceva la t otto porca vacca vabbè oh quante cose guardate guardate cosa c'è non mi ricordo direi che è questa è bellissima non è che schifo ma che è ma che è sta cosa qua ragazzi è la meditrebbia normale c'è una seconda meditrebbia leggerna eh sui proprio r collaborare Anna Burger Eccola Guardate quanto cavolo è lunga È lunga 12 metri E questa Anche Però questo è diverso perché Tipo a stellina Invece questa è tipo una ruota La CGQ è vero Fa pesi E vende anche questa bellissima metri tribo Vediamo la Fiat cosa ha fatto Se la ritrovo Mi pare che stava una di ste fili Di ste fili Ah 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 Ma voglio vedere Anna Burger Perché si chiama Anna Burger Oh eccola qua Ah Wow La Fiat è proprio utile Sto scherzando Bel camion Andiamo la Ah vero la l'altra Fattatori Chi è sta cosa Che chi è Portano i liquidi Portano i liquidi E se guardate i pesi Questo qua è 7 Questo qua è 2 tonnellate 2 Farzi Questo credo che sia La TT Il coltivo Ok quindi che si può fare Ok La Pioneer La Pioneer Non è Cioè Vabbè ogni cosa ragazzi Questa Ok per il mais Questo che è Ringhiatore Voltafieno Ok Quanti siamo 44 minuti Ok Ok Qua stiamo al 91% Quanto manca Qua la Isci Qua la completiamo Tu Ok Stai andando abbastanza bene Tu Vai a seminare Meno male che già ce l'hai Sevi Anche se sono soltanto mille Voglio fare Il frumento Perché è bello E poi perché No 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 Tu adesso Vai via Operario Ok 10.000 Grazie mille Cos'è questo Ok Questo Questo qua è 9.000 Che devo fa Devo fertilizzare Vabbè lo faccio dopo Vabbè comunque ragazzi Faccio Faccio questa qua Inizio a seminare Faccio iniziare a seminare E poi Direi Che poi abbiamo finito Dimmi che non va Avantissimo C'è lì Ti No No E poi avanti Qual è la realità Stai scendere C'è lì in guerra dai 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 ok comunque quel contratto raga a me mi piaceva volevo farlo era bello ormai è pure bello il trattore vai operaio eeeh vai ok ragazzi segniamo lo screenshot come salva ragazzi prima devo fare lo screen aiutate j vabbè fammi salire eeeh salva screenshot dai dove è k con la k è andato 9 piccolo nooo vai 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 prima che parte vai 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 prima che parte ok bravo qua devi girare ok perchè ragazzi voglio fare proprio quando inizio quando così eeeh dai k screenshot screenshot salvato come si fa a vedere beh comunque ragazzi direi che questo video può finire qui eeeh quindi sono 50 minuti di video questa cosa non va bene dunque ragazzi ci vediamo con questa bellissima metitrebbia con un sticker da sopra eeeh comunque ragazzi ci vedremo eeeh per la prossima volta a fare un contratto credo che quando ho iniziato il video credo che già abbiamo iniziato il contratto il contratto quindi ragazzi direi che eeeh potremmo dire addio a voi e non non cioè ciao nel prossimo video io e la metitribia quindi ragazzi ciao ragazzi ciao